E' bello essere come Lucifero, portare la luce delle proprie idee, ma state attenti, Lucifero è il diavolo, che avvolge i propri discepoli nella luce della falsità, mentre invece compito dal filosofo è avvolgerli nelle tenebre dell'oscurità. E visto che parliamo di ombre e di luci, di chiaro e di scuro, di cieli stellati e di notti serene, ritorno al grande insegnamento di Giordano Bruno, il quale ci ricorda che la luce risplende, ma nelle tenebre, il chiarore ha il suo senso, grazie a uno sfondo scuro. Io sono un ottimo conoscitore del brevito del disco rap, eh? Italian violence Italian fashion Italian 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 American American Dreams Of Conquest American Death peggito Beggito Platino Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.